buongiorno a tutti i telespettatori di le fonti tv con questo appuntamento speciale di book crossing da casa sì perché anch'io alessio riparati resto a casa e anche l'ospite che abbiamo l'immenso piacere di avere qui con noi ovvero igor sibaldi direttamente dalla sua casa grazie mille igor per essere qui con noi grazie grazie buona giornata questo è un appuntamento speciale di book crossing perché vogliamo inaugurare una serie dedicata al racconto di questa emergenza che stiamo vivendo lo faremo attraverso scrittori filosofi giornalisti fotografi che in questo momento proprio stanno raccontando hanno la capacità di decodificare un po tutto quello che sta avvenendo oggi con con igor sibaldi che abbiamo già avuto l'immenso piacere di avere con noi anche in studio vorremmo soffermarci su alcune parole che sono diventate un po mantra in questo in questo momento per cercare di comprenderle più a fondo io farei così igor partirei proprio da due parole che tu stesso hai scelto all'interno di un'intervista recente rilasciata per la stampa in cui hai definito questo momento di quarantena come un momento di sospensione tra paura e meraviglia ecco io partirei dalla paura che è sicuramente uno dei delle parole dei termini che soprattutto nella fase iniziale ci ha riguardato molto da vicino qual è come si identifica la paura che stiamo vivendo in questo preciso momento allora quando scritto quella intervista alla stampa ero un po di umore un po migliore che adesso ma via verità cioè via via che passano le giornate sto notando alcune cose che prima non notavo e la paura è una di queste la paura di queste dunque la paura si manifesta in questo modo a questa dinamica la paura una persona non ha paura se agisce un gatto in seguito da un cane non ha paura se avesse paura il cane lo prenderebbe perché la paura come primo effetto all'effetto che si chiama freezing cioè paralizza la paura è proprio la paralisi di un impulso quando una persona ha un impulso e lo trattiene comincia ad avere paura questo capita spesso durante la giornata per esempio una persona prova grande simpatia desiderio per un'altra persona vorrebbe essere più espansiva e gentile si trattiene e diventa timida non è che timida e si trattiene no si trattiene e diventa timida la timidezza una forma di paura una persona che è libero di agire per esempio il gatto libero di scappare davanti a un cane feroce non ha tempo di avere paura perché troppo impegnato a scegliere il percorso giusto le strategie giuste a fare i trucchi che gli permetteranno di salvarsi noi adesso siamo in una situazione inevitabilmente di paura perché perché siamo trattenuti in tutto siamo in casa chiusi vorremmo fare tante cose tantissime non possiamo e comincia la paura è un riflesso neurologico proprio proprio neuropsicologia la spiega così la paura noi siamo in una situazione bloccata come animali in trappola in gabbia non possiamo scappare abbiamo paura non possiamo correre avanti non possiamo attaccare abbiamo paura è inevitabile questo più che la paura però mi sto accorgendo che una lunga esposizione alla paura alla situazione bloccata come quella che stiamo vivendo può diventare un grosso trauma un grosso trauma anche perché infatti tu proprio anche nel nell'articolo intervista citata anche in un'altra intervista che recentissimamente tu hai rilasciato al lanza cultura sottolinei come con un tempo come quello della quarantena quindi già siamo oltre i 30 giorni oltre il mese determinati i modi di essere si cristallizzino e quindi c'è il rischio che appunto alcuni stati d'animo possano poi diventare delle nuove abitudini nuovi atteggiamenti e non sempre positivi abitudine il tempo di abitudine sono 27 giorni c'è una persona che aveva 27 giorni un mese segue un determinato comportamento radica questo comportamento noi abbiamo superato questo periodo per cui non ce ne accorgiamo ancora ce ne accorgeremo quando sarà finito tutta una serie di abitudini che abbiamo preso adesso che sono diventate abitudini non circostanze proprio comportamenti fissi e dovremmo farci conti dopo dunque le abitudini grosse che vedo pericolosi sono due prima il trattenere il trattenere seconda cosa un condizionamento visivo che sarà molto difficile da affrontare più avanti e da smontare noi vediamo dappertutto persone con la maschera sì infatti le immagini sono particolarmente forti in questo momento regato persone con la maschera persone con i guanti cosa fa la maschera la maschera toglie l'olfatto inevitabilmente l'olfatto valore simbolico molto importante per noi gli animali che non hanno un supermercato che non hanno le confezioni con la data di scadenza devono per forza annusare le cose gli animali che non hanno la parola devono per forza quando incontrano un altro animale annusarlo per sentire quali sono le sue opinioni quali sono le sue intenzioni qual è il suo stato di salute e così via l'uomo invece dell'olfatto ha quella che noi chiamiamo sensibilità questa sensibilità è simboleggiata proprio dall'espressione della parte inferiore del viso se noi adesso siamo abituati a vedere questa parte chiusa per tutto il tempo è come un comando che arriva alla mente che non fare caso agli altri se la si somma la paura diventa una miscella esplosiva che si manifesterà in questo modo non faccio caso agli altri perché possono essere temibili allora ho un egoismo anche di un chiudersi in in se stessi e rifugire l'altro l'egoismo c'era già questo diventa autismo diventa una componente autistica cioè come si può manifestare e si manifesta come si manifesterà si potrà manifestare in questo modo io delle mie idee non mi interessano quelle degli altri non mi interessano le sensazioni degli altri sentimenti degli altri io sono abituato a non annusare più le altre persone perché sono temibili perché sono temibili a questo punto tutta una serie di nostre strutture culturali devono essere riviste perché la narrativa il cinema l'arte è tutta quanta basata su una scoperta dell'altra persona sull'importanza dell'altro ci ritroveremo con qualche probabilità c'è qualche probabilità che noi ci ritroveremo alla fine della quarantena un po arretrati rispetto a quello che eravamo prima per quello che riguarda le relazioni umane un po arretrati un po più rozzi e questo sarà un grosso pericolo perché dunque noi non siamo come gli animali responsabili solo dei nostri artigli delle nostre zanne eccetera noi abbiamo tutta una serie di mezzi di protesi potentissime noi guidiamo i suv noi usiamo internet noi possiamo usare delle cose che possono essere molto dannose per gli altri se si dà in mano o lo dice popper un bravo filosofo dice attenzione all'evoluzione perché l'evoluzione certe volte tira dei brutti scherzi se per esempio un pilota di aereo governa bene il suo aereo e la tecnologia si evolve improvvisamente come avvenuto durante la seconda guerra mondiale e gli aerei hanno una velocità a tutto un tratto molto superiore a quella di prima il pilota si schianta perché non è ancora cresciuto ecco in questo caso la tecnologia sarà andata avanti perché non si ferma mai la nostra mentalità durante questa in tutto il mondo in tutto la nostra mentalità sarà tornata indietro sulle relazioni umane e questo rappresenterà un grosso rischio un grosso rischio che anche proprio perché parliamo di parole legato al fatto di come oggi si parli di necessità di distanziamento sociale ecco alcuni scrittori e pensatori hanno detto non parliamo di distanziamento sociale perché questo ci rende ancora più distanti di distanziamento in questo momento personale perché in realtà dobbiamo essere più uniti possibili perché quindi facendo un gioco di parole tutti ci ritrovi in questo pensi che sia solo magari insomma un utilizzo dei termini in maniera forse impropria dunque due grosse tentazioni ci sono quando si pensa a un periodo difficile la prima tentazione è dire dobbiamo ok dobbiamo è già difficile quando si sa in che direzione si va usare il dobbiamo perché il dobbiamo è molto autoritario cioè chi dice dobbiamo lo dico io e dobbiamo al massimo di devo è già da tanto però dobbiamo è già un po prepotente anche se in questo momento siamo tutti un po vittime di un dovere stare in casa che è e poi anche tra i rischi insomma che anche tanti pensatori hanno sottolineato di una sorta di sospensione della della democrazia della nostra libertà personale che attualmente così per un fine più alto ma fino a quando è sì il problema è quando dice dobbiamo d'ora in avanti dobbiamo fare questo questo qui è già difficile dicevo farlo quando una persona sa in che direzione si sta andando qui non si sa assolutamente che direzione si sta andando è assolutamente imprevedibile il futuro per cui il dobbiamo è come dire non ho voglia di pensarci più di tanto facciamo che dobbiamo e mi fermo qua col pensiero invece non appena si tratta di una questione l'importante la prima cosa a fare è guardiamo raccogliamo il maggior numero di dati possibili poi vedremo quello che si potrà fare quello che sarebbe bello fare o che sarebbe brutto però il verbo dovere vale per le prestazioni totalmente conosciute prevedibili e anche lì già è un po' a volte superfluo l'altra cosa è le certezze dunque in un periodo simile la certezza è vecchia come sistema la certezza si può avere solo alla fine di un lungo periodo di esperienze si manturano le certezze riguardo al periodo precedente attualmente noi siamo davanti a un periodo totalmente nuovo con il periodo precedente che non serve più a niente perché tutto quello che sapevamo fino adesso non basta a rispondere alle domande che questo periodo ci pone e che ci porrà la fine della quarantena uno degli elementi della paura scusa se ti interrompo può essere proprio il fatto di non aver esperito davvero prima e di non avere degli esperti che ci possano dare anche una parola definitiva forse troppo e lo stesso riguarda poi i leader chi ci guida a livello politico che non sa dove 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 andare fondamentalmente certo quando uno comincia a mettere in moto il meccanismo della paura e girano gli ormoni della paura nella testa può fargli paura anche questa con una matita non importa non importa posso avere paura di tutto divento superstizioso posso avere paura di qualsiasi cosa quando la paura è come una nebbia quando c'è la paura posso poi scelgo io dove vedere la nebbia ma tanto nebbia dappertutto quanto alla alla paura che può derivare dalla non conoscenza di quello che sta avvenendo che avverrà lì c'è la scelta allora se una persona riesce a non aver paura di fronte al nuovo si ha una situazione di meraviglia che non è male che non è male proprio il contrario è il contrario della paura non è il coraggio coraggio si alimenta del dobbiamo e delle certezze il coraggio è la conseguenza della paura cioè io ho paura mi ci vuole coraggio per affrontare la paura ma è la conseguenza è già dentro il vortice della paura c'è anche il coraggio la alternativa totale alla paura e la meraviglia il nuovo non lo conosco che meraviglia che magnificenza una scoperta nuova mi sembra di avere di nuovo 12 anni tra l'altro questo avevo scritto da qualche parte e poi era capitato un amica mi aveva mandato un post di non so chi negli stati uniti che era un post brevissimo intelligentissimo che diceva soltanto qualunque canzone dei tuoi 12 anni è la colonna sonora di questi giorni bellissimo quindi dobbiamo ritrovare anche questo tra tutti i consigli anche musicali di questo periodo ritrovare la colonna sonora dei nostri 12 anni ci siamo già dentro è una cosa che non dobbiamo neanche fare perché noi adesso abbiamo abbiamo 12 anni la volta precedente che tutti ci siamo trovati in questa situazione era prima del primo amore quando da un lato non ci avevamo esperti di nessun tipo perché avevamo già capito a 12 anni che gli adulti non avevano granché da insegnarci a cinque anni sei anni otto anni speravamo ancora nei maestri adulti a 12 anni avevamo già mangiato la foglia dice no questi qua ne sanno meno di me sono qui da più tempo ma non ho capito granché era quel momento 12 anni che tutti hanno passato non c'era ancora esperienza non era ancora arrivato il primo bacio almeno non per tutti per me no e quindi non speriamo niente eravamo obbligati o ad aver paura o ad avere un atteggiamento di meraviglia di scoperta che ha avuto paura allora poi ha avuto paura per molto tempo che ha avuto un atteggiamento di scoperta allora ha mantenuto un atteggiamento di scoperta per molto tempo e così sarà anche stavolta se una persona ha paura adesso non avrà paura solamente fino alla fine della quarantena continuerà ad averla se una persona si meraviglia adesso non è che dopo smetti di meravigliarsi no sarà un tutto che nuovo che nuovo che nuovo che bello che nuovo o che brutto che nuovo però ho la possibilità avendo la grande occasione di ritrovarmi dodicenne poi se tanto mi dà tanto se tanto mi dà tanto allora siccome la mente il corpo funzionano insieme attenzione questa è un'altra scoperta stella mente il corpo funzionano insieme non è possibile che la mente da una parte il corpo dall'altra salvo in caso di follia assoluta per cui c'è la mente molto malata il corpo che sta benissimo se in una situazione di normale salute la mente il corpo funzionano insieme se la mente si ritrova in una situazione a 12 anni comincia a mandare al corpo segnali dicendo su adesso devi avere 12 anni anche tu e questo se va bene a voler essere molto ottimisti ritrovarsi 12 anni in giugno non sarebbe mica male assolutamente anzi forse bisognerà porre qualche freno ma no non limitiamoci infatti bellissimo questo è anche un passaggio all'interno del proprio dell'intervista dicevi quindi se va bene entreremo nella storia come una generazione di scopritori e andrà bene quindi l'idea della scoperta e della meraviglia come insomma contraltare della della paura qualcuno invece parlava di audacia ma tu stesso hai già ben chiarito che audacia parte anche del coraggio ma siamo ancora nella sfera diciamo della della paura un altro termine che mi piacerebbe molto affrontare con te che è stato utilizzato e abusato possiamo dire a proposito della metafora del coronavirus con la guerra e quindi tutta una retorica soprattutto nell'ambito politico ma diciamolo anche nell'ambito giornalistico che però può essere veramente molto pericoloso anche perché susan sonta che nel 78 aveva scritto un bellissimo saggio dal titolo malattia come metafora e proprio scriveva parlare di guerra di invasione di eroismo con un lessico bellico ancora ottocentesco ci allontana dall'idea di unità e condivisione di obiettivi che ci permetterà di uscirne ecco tu cosa ne pensi rispetto proprio al questo abuso della metafora bellica non so se un abuso perché io in guerra ci sono stato era in georgia nel 95 ed era esattamente così quindi ok smettisci perfetto era così con una differenza con una differenza in un paese in guerra la gente è anche lì è combattuta tra o scopro o paura no sicuramente però c'è una differenza che è una cosa che adesso purtroppo non è possibile nei paesi in guerra la gente è cordialissima la gente è cordialissima è estremamente affettuosa c'è una grande apertura verso gli altri se una città per esempio assediata tutti quanti si parano molto volentieri si guardano negli occhi con affetto sono curiosi della del mondo altrui e questo purtroppo a noi è negato perché possiamo incontrare pochissime persone in questo periodo e poi c'è il terrore appunto che dicevo prima io personalmente sono molto preoccupato l'idea delle conseguenze di quella paura chiusura e della perdita di sensibilità ecco secondo alcuni anche filosofi e scrittori però la differenza rispetto al magari ad un periodo di guerra è che ci si poteva magari muovere in altro in altro modo ad esempio le donne andavano anche magari nelle fabbriche al posto degli uomini c'era una trincea da una parte invece in questo momento e spesso anche i medici e gli infermieri che vengono chiamati eroi rifuggono questa definizione non si sa quanto con riferimento a quella famosa insomma espressione di brecht che insomma diceva guai ai paesi che hanno bisogno di eroi tu cosa ne pensi? beh l'eroe di solito nel senso tradizione nel termine è quello che finisce male gli altri sono meritevoli diciamo no? ecco penso che la differenza grossa anche rispetto alla guerra o all'eroe è che qui il nemico non si vede e infatti anche questo è un altro e questo somiglia molto alla guerra moderna perché dunque la guerra di una volta dell'ottocento diceva la Zontag era quella col fronte che da qualche parte ecco nella guerra moderna ci sono dei mezzi di molto veloci di entrare in contatto con l'emico nei quali il nemico può entrare in contatto con noi ci sono dei bombardieri che quando passano fanno tremare tutto cioè sentir passare un bombardiere sopra la testa è un'esperienza orribile perché non puoi far niente non puoi far niente e sei a casa oppure sapere che i cannoni arrivano tranquillamente anche da 10 km o da 5 km possono colpire tranquillamente ovviamente ecco è dappertutto no? la minaccia questo senso di minaccia molto più leggero che in una guerra naturalmente ce l'abbiamo lo stiamo adorando non si vede il nemico non si vede il nemico il nemico è molto piccolino piccolissimo eh sì non riusciamo a figurarcelo e quindi anche quello forse ci rende ancora più impotenti forse furbissimo tanto quanto un bombardiere grande e rumoroso tanto questo nemico qui è silenzioso e microscopico eh ma ce lo paventavano comunque anche stato ripreso in questo periodo un TED Talk di Bill Gates che diceva non dovremmo avere paura nel futuro dei grandi arsenali, dei missili quanto appunto dei virus e questa cosa si è rivelata tale Igor il tempo purtroppo a nostra disposizione sta quasi per terminare e a proposito di tempo io volevo parlare con te proprio di un'altra parola tempo collegata però al futuro anche in una appunto recentissima tua intervista si intitola Igor Sibani la sfida del dopo quindi quest'idea di proiezione verso un futuro all'interno però di un tempo che al momento è un'attesa una sorta di aspettando Godot che non si vede arrivare eh sì dunque il tempo ci porterebbe via adesso se cominciassimo anche solo un pochino a parlarne un 40 minuti di introduzione molto intensi perché è un argomento completamente nuovo il tempo benché tutti parlino molto spesso del tempo del tempo la filosofia si sta accorgendo di sapere pochissimo il tempo dagli anni venti in avanti dunque dagli anni venti si è scoperto per esempio prima l'ha scoperto uno scienziato famoso Einstein e Einstein poi si è messo a fare conferenze in tutto il mondo per raccontarlo a tutti conferenze affollate anche di psicologi che prima dicono questo è pazzo poi hanno detto no no non è pazzo e tanti l'hanno preso in considerazione dicendo che il tempo è un prodotto del nostro modo di vedere cioè il tempo è come noi ce lo raccontiamo il tempo dunque ha questa caratteristica tanto per dirne una questa caratteristica strana noi diciamo che il tempo scorre quando qualcosa scorre è perché noi stiamo fermi se diciamo che il tempo scorre nella nostra mente c'è qualcosa che segnala guarda che il tempo passa ma tu non sei nel tempo tu sei fuori dal tempo prima cosa poi c'è un'altra cosa che è semplicissima noi abbiamo un bellissimo strumento anche questo pochissimo noto che si chiama ricordo di solito il ricordo lo si digue nei freti dicendo beh è un archivio fotografico di video che abbiamo ecco probabilmente no probabilmente no probabilmente la memoria è un sensore che ci permette di spostarci lungo il tempo di andare indietro davvero come se fosse proprio un senso abbiamo i cinque sensi che abbiamo più il ricordo che arriva dove i cinque sensi non arrivano dunque noi rispetto al tempo siamo a quanto pare sorprendentemente liberi il tempo è come noi ce lo raccontiamo e come noi lo percepiamo noi possiamo percepire un'ora come un'infinità di tempo possiamo percepire una se uno fa una passeggiata con qualcuno che gli piace si stupisce che siano passate tre ore perché si allentano quando noi ascoltiamo una canzone dura due minuti e mezzo tre non passano due minuti e mezzo tre non sono due minuti e mezzo tre quelli che passano sono i musicisti lo sanno no? e anche le persone che ascoltano bene le canzoni lo sanno il tempo si sospende noi siamo liberi rispetto al tempo e adesso abbiamo tutte le possibilità di esplorare questo continente del tempo perché ne abbiamo una quantità enorme per cui possiamo accorderci che il tempo si dilata si restringe, si dilata a me interessano molto quelle cose che si chiamano i viaggi nel tempo che non sono fantascienza erano fantascienza alla fine dell'ottocento attualmente sono un argomento della fisica i varchi spazio-temporali ci sono varchi spazio-temporali al passato e varchi spazio-temporali al futuro questo è il momento del tempo se una persona vuole leggere qualcosa in questo periodo tra le tante cose che può leggere in questo periodo provo a dare un'occhiata in internet a tutto quello che riguarda la filosofia del tempo e vedrà che è un romanzo d'avventure un romanzo d'avventure meraviglioso e comincerà sicuramente a usare il tempo che ha in così abbonato di disposizione in questo periodo in modi diversi un consiglio di lettura particolarmente efficace visto che le classifiche che poi non sono ovviamente un testo sacro rispetto a quello che effettivamente sta leggendo però è vero che in questa fase molti stanno rileggendo La peste di Camus Spillover di David Quaman che è appunto questo saggio che pare ad essere comunque previsto questo fenomeno della zoonosi oppure Cecità di Saramago c'è come una volontà quasi di ritrovarsi nelle parole magari di soprattutto nei classici di grandi autori e ben venga anche un approfondimento sull'onda e sul viaggio nel tempo Un'ultimissima domanda Igor a proposito invece dei desideri come riuscire a cogliere da questo momento un'opportunità anche per la propria crescita personale attraverso i desideri? Adesso c'è tutto il tempo Ecco C'è tutto il tempo Questa quarantena può diventare una palestra di desideri straordinari è solo che i desideri bisogna stare attenti perché è una ginnastica da pesi massimi è una ginnastica da pesi massimi dei desideri non è una cosa semplice il primo movimento per sollevare i 180 kg di un desiderio il primo movimento è cosa mi piace secondo movimento non tutti ci riescono non tutti riescono la grande maggioranza delle persone di fronte a questa domanda o fanno i furbi cioè rispondono cosa devo dire che mi piace cosa mi deve piacere cosa posso osare dire che mi piace e tutte queste altre cose qui oppure ancora cosa mi piaceva qualche mese fa invece la domanda cosa mi piace è molto difficile perché richiede una purezza interiore straordinaria e può riservare la sorpresa che quello che sei abituato a fare prima della quarantena in realtà non rispondeva a questa domanda era una cosa che facevi senza chiederti se ti piacessero o no la seconda domanda la seconda domanda per sollevare quel peso enorme che è la tecnica di un desiderio è cosa ho da dare cosa ho da dare nella vita dipende tutto sempre da quello che uno ha da dare gli può capitare l'occasione più straordinaria che esista il più grande colpo di fortuna immaginabile ma se uno ha dato troppo altrove e non ha niente da dare adesso il colpo di fortuna passa infruttuoso la buona notizia è che tutti noi abbiamo qualcosa da dare solo che gli siamo dimenticati dov'è e questo è un bel modo una volta fatti questi due movimenti cosa mi piace cosa ho da dare posso pensare allo sforzo maggiore cosa desidero cioè che cos'ho nella mente che mi piace e che non ho a portata è questo è questo ebbè è un bellissimo insomma consiglio e applicazione comunque vedevamo prima anche il mondo dei desideri uno dei tuoi testi ovviamente il consiglio lo faccio io per non farlo dire a te è ovviamente di riscoprire i libri e la vastissima produzione di Igor Sibaldi che ovviamente a maggior ragione in questo momento può essere di estrema utilità conforto e anche sprone e stimolo per continuare a meravigliarsi quindi questo sicuramente è così prima abbiamo visto anche qualche immagine io ho provato a condividere anche lo schermo ho fatto questi esperimenti tecnologici anche alcune immagini un po' iconiche di questo di questa fase abbiamo visto a proposito della mascherina quell'immagine di quell'infermiera che è diventata anche famosa è stremata e appunto sul posto di lavoro e poi quella immagine di piazza San Pietro completamente vuota con il Santo Padre unica presenza sarebbe bello poi Igor magari risentirti a proposito del potere delle immagini in questo momento che che ci attraversano e che al di là del potere delle parole è anche il potere delle immagini che sono la realtà a questo punto sono la realtà prima realtà aveva degli odori aveva delle delle temperature aveva dei gusti dei contatti adesso la realtà è fatta in grandissima parte di immagini durante la quarantena lo vediamo perché siamo costantemente davanti a uno schermo quindi con un'immagine proiezione così filtrata in un certo senso e ci auspichiamo di poter vedere con i nostri occhi quindi di poter raccontare e immagazzinare direttamente con i nostri occhi e anche con il nostro corpo ciò che ci circonda al più presto grazie grazie mille grazie io ringrazio nuovamente Igor Sibaldi per essere stato con noi per aver inaugurato anche questo ciclo di interviste io resto a casa di book crossing legate al racconto di questa emergenza io ringrazio nuovamente i telespettatori di Le Fonti TV per averci seguito e non mi resta che lasciarvi ad uno dei nostri prossimi appuntamenti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti